Di nuovo assieme a seconda parte di Angoli, io do il benvenuto a Silvia Camporini del CAF Acli, buonasera. Buonasera, buonasera. Con questo primo incontro inauguriamo un miniciclo perché noi ci rivedremo anche altre due volte a maggio e parleremo proprio di dichiarazione dei redditi, faremo proprio una sorta di servizio al cittadino, tutti dobbiamo farla, tutti abbiamo una scadenza, per ora quella che è certa è quella del 7 luglio, in realtà mi stavi dicendo in pubblicità che forse ci sarà come negli anni precedenti una proroga, per voi vitale, potrebbe slittare la scadenza al 23 luglio, però insomma si guadagnano due settimane ma tutti in questo periodo ci stiamo trovando a fare un po' di conti. Allora cercheremo di darvi in questi appuntamenti delle dritte per fare questa benedetta dichiarazione dei redditi. Peraltro ricordo subito ai telespettatori che i prossimi appuntamenti saranno il 5 e il 25 maggio e che per avanzare delle domande mirate che noi gireremo alla nostra esperta potete utilizzare la consueta mail di Angoli, angolichiocciolaespansionetv.it, insomma un'occasione da non farsi scappare. Torniamo però al dunque, questo 7.30. La novità è che, che poi è una novità relativa perché già al secondo anno, l'agenzia delle entrate dal 15 aprile ha predisposto il modello 7.30 precompilato. C'è stato un po' di clamore, alcuni dicono che insomma una rivoluzione, la digitalizzazione si sta andando nella giusta direzione, molti invece hanno già trovato qualche pecca. Però passo indietro raccontiamo un po' meglio di che cosa si tratta. Sì, è proprio così. Dal 15 di aprile per il secondo anno di fila l'agenzia delle entrate ha predisposto il modello 7.30 precompilato, ossia una sorta di dichiarazione già predisposta dall'agenzia delle entrate sulla base dei dati che rileva da certificazioni, da comunicazioni che arrivano da diversi soggetti. In particolare l'agenzia delle entrate riesce a costruire il 7.30 precompilato grazie alla certificazione, l'ex modello 101 per chi si ricorda delle vecchie denominazioni, la cosiddetta CU quest'anno si chiama, o meglio ricordata come CUD che forse ricordava quella, immaginavo perché diciamo che più comunemente si ricorda come CUD dall'anno scorso il nome è CU perché è certificazione unica, è la certificazione che certifica tutte le tipologie di redditi che vengono erogati al contribuente, quindi all'interno della CU ogni contribuente avrà, che so, la pensione piuttosto che il lavoro dipendente piuttosto che le collaborazioni occasionali o le prestazioni professionali, quindi questa certificazione diciamo che è uno degli elementi principi per la costruzione del modello 7.30 precompilato. L'agenzia delle entrate da questo modello che ha unificato proprio perché così da lì riesce a riassumere nel modello 7.30 una serie di informazioni, proprio attraverso la certificazione unica l'agenzia delle entrate può precompilare diciamo il 7.30. All'interno del 7.30 confluiscono anche una serie di altre informazioni che l'agenzia delle entrate rileva da altri archivi, ad esempio sempre attraverso la certificazione unica rileva la parte relativa ai familiari a carico, quindi può già compilare anche la parte delle detrazioni per familiari a carico. Ecco c'è un prospetto riepilogativo che aiuta un attimo anche a seguire da casa questo discorso che sembra tecnico, in realtà la maggior parte della documentazione viene appunto, scusate, dei dati viene appunto rilevata dalla certificazione unica. Anche la parte dei fabbricati e dei terreni viene in parte trascritta dalla dichiarazione dell'anno prima in parte rilevata da documentazioni che l'agenzia delle entrate ha, ad esempio dati che vengono registrati durante l'anno per variazioni, successioni. Questo però diciamo che magari dopo facciamo un piccolo appunto rispetto ad alcune nozioni che l'agenzia delle entrate conosce ma che non può in nessun modo definire in modo completo all'interno del 730. Da quest'anno inoltre l'agenzia delle entrate, su questo c'è stata una discussione abbastanza ampia nei mesi scorsi, soprattutto nel mese di novembre-dicembre dello scorso anno, da quest'anno l'agenzia delle entrate ha richiesto di inviare anche tutta una parte di spese sanitarie. Quindi i commercialisti o i soggetti tenuti alla contabilità hanno dovuto inviare alcune informazioni ad esempio dei medici piuttosto che le case di riposo rispetto alle rette pagate dai soggetti ricoverati e quindi c'è stato un lavoro di rielaborazione del dato a fine anno perché questo andava trasmesso entro gli inizi di marzo. Quindi c'è stato tutto un lavoro di finitura dei dati. Diciamo che ancora questo 730 precompilato è sperimentale. Ancora l'agenzia delle entrate sta sperimentando e sta gradualmente anno per anno inserendo nuovi elementi all'interno dello stesso. Infatti quali sono le principali novità di quello di quest'anno? Dal punto di vista tecnico, da due anni a questa parte, proprio rispetto alle spese detraibili, agli oneri deducibili, non ce ne sono molte perché l'agenzia delle entrate si sta proprio dirigendo rispetto alle novità del 730 precompilato. Quindi tutte le energie sono spese per costruire un 730 precompilato il più possibile completo. Rispetto alle novità delle spese, in particolare quella più rilevante è che all'interno del precompilato saranno presenti le spese mediche. Ciò non vuol dire che il contribuente una volta che apre il suo precompilato si fida di quello che c'è scritto perché comunque deve conservare le sue pezze giustificative e qualora debba integrare deve comunque avere una conoscenza minima della normativa. Perché tra il dire la spesa medica detraibile e essere sicuri che effettivamente lo sia, in che misura questa spesa è detraibile, c'è un po' di differenza. Quindi diciamo che la novità principale è questa che l'agenzia delle entrate incomincia a compilare anche altri righi, non solo quello dei redditi, ma anche ad esempio quello delle spese. Novità importantissima che è importante ricordare è che da quest'anno saranno detraibili rispetto alle spese scolastiche anche le spese per la frequenza di scuole materne, scuole elementari, ad esempio la mensa o lo scuolabus o spese, diciamo accessorie, oneri accessori all'iscrizione alla scuola elementare. E precedentemente questa cosa invece non la veniva. No, era possibile detrarre solo ad esempio le spese universitarie o iscrizione alla scuola, ma non alla scuola dell'obbligo. Ho capito. Altri vantaggi e svantaggi di questo 7.30 precompilato? Un po' lo hai anticipato anche tu ed è quella cosa che mi è entrata proprio nei giorni scorsi nell'orecchio. Il fatto che c'è la possibilità di contestare, aggiustare, inserire parametri mettendo in discussione quello che si trova scritto nel 7.30 precompilato, ma se non lo si fa, e qua correggimi se sbaglio, in questo modo lo capita io, se non lo si fa sostanzialmente per due anni non si incorre in ulteriori controlli. Allora, intanto ciascun contribuente dovrebbe analizzare la sua situazione personale, quindi capire se rispetto ai redditi che ha prodotto nell'anno precedente è tenuto meno a presentare la dichiarazione dei redditi. Questo perché una volta che uno stabilisce se deve o meno presentare 7.30 piuttosto che l'unico, il modello unico che è un'altra tipologia di dichiarazione dei redditi un po' più complessa, a quel punto si sceglie poi con che sistema presentare la dichiarazione, se direttamente quindi chiedendo il PIN all'Agenzia delle Entrate, accedendo al sito di Entratele e quindi intanto bisogna anche essere in grado di fare questi due passaggi prima di accedere al modello 7.30 precompilato perché a differenza di quello che tante persone credono, il 7.30 precompilato non arriva a casa in una busta come tanti si aspettano o si aspettavano, perlomeno forse il secondo anno hanno capito che non è così. 7.30 precompilato è rilevabile unicamente online, quindi mi devo prima attrezzare col mio PIN che è questo codice che mi permette di accedere all'interno del sito dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate dove io vedo solo la mia posizione. A quel punto una volta che ho effettuato l'accesso devo essere in grado di decifrare cosa c'è all'interno della mia dichiarazione perché va bene che è precompilata però l'Agenzia delle Entrate non tutte le informazioni le può tradurre in un'informazione certa, tanto che il 7.30 precompilato è formato da 7.30 precompilato e da una scheda allegata aggiuntiva su cui l'Agenzia dell'Entrata nota tutto quello che non è riuscita a elaborare. Ad esempio nel caso di immobili se c'è stata una variazione nel corso dell'anno, ho ereditato un appartamento, ho acquistato un immobile, non può compilare il campo dell'utilizzo, cioè l'Agenzia delle Entrate sa che l'hai comprato ma non sa che uso ne fai. Non è in grado di dire se da quando tu l'hai acquisito nel corso dell'anno al 31 di dicembre questo immobile è stato sfitto, è stato ceduto, incomodato d'uso a un familiare e via dicendo. Quindi queste informazioni l'Agenzia delle Entrate le insegna su un foglio allegato. Dice c'è un immobile però effettivamente non so per che cosa questo immobile viene utilizzato. Oppure altre informazioni potrebbero essere rispetto ai figli a carico, cioè l'Agenzia delle Entrate ha conoscenza di determinate informazioni, però poi è il contribuente che deve verificare se effettivamente deve essere consapevole di quello che scrive poi una volta che va ad integrare un 730 già precompilato. Sulle spese mediche dobbiamo vedere se una volta che l'Agenzia delle Entrate ha inserito le informazioni che sono arrivate, se effettivamente le spese mediche inserite sono tutte detraibili, perché effettivamente il professionista che ha trasmesso i dati aveva il compito di trasmetterle, ma non anche di verificare che le stesse fossero detraibili. Per cui il contribuente che si trova al suo berrigo compilato non finisce lì dal mio punto di vista, deve entrare nel merito, andarsi a prendere i suoi documenti giustificativi e conoscere la normativa. Per cui il vantaggio c'è sicuramente. Per coloro che sono in grado, hanno conoscenza della normativa innanzitutto, almeno generale, della dichiarazione dei redditi e sono in grado poi di affrontare autonomamente la gestione di una dichiarazione dei redditi online, quindi devono avere anche delle conoscenze informatiche, il vantaggio c'è sicuramente. Per tutti gli altri soggetti che invece non hanno una connessione internet a casa, ad esempio, già questo è un limite. Non hanno la possibilità di richiedere il PIN, non hanno la conoscenza della normativa, direi che il 730 precompilato rimane più che altro un vantaggio per il professionista, nel senso che il professionista, ma anche i CAF, con il 730 precompilato possono fare, prima dell'invio telematico, un controllo. Hanno una certezza in più rispetto alla dichiarazione che stanno trasmettendo dell'Agenzia delle Entrate. Sono controlli molto puntuali. Secondo te questo 730 precompilato ha veramente rivoluzionato il rapporto tra fisco e cittadino, alla luce anche di quello che ci siamo detti? Diciamo che al momento no, perché appunto l'Agenzia delle Entrate ancora non è in grado di riempire tutte le caselle del modello 730 con assoluta certezza. Sarà anche per il fatto che esistono tantissimi oneri detraibili. L'elenco degli oneri detraibili arriva fino al rigo E30 e passa, quindi ogni rigo al suo interno, 30 rigli al suo interno, comprende una sfumatura di oneri detraibili lunghissime, un elenco lunghissimo, quindi la scelta futura potrebbe essere quella di tagliare magari la marea di oneri detraibili in favore della compilazione del modello 730 precompilato. Questo può essere una delle evoluzioni future. Ad oggi diciamo che la funzionalità del 730 precompilato ancora non ha raggiunto quello che si sperava. Certo. Va bene, allora, noi ci rivediamo il 5 maggio. Davvero invito i telespettatori ad approfittare della tua disponibilità, perché a me stanno già avvenendo una marea di domande che mi segnerò a dovere per il prossimo incontro, soprattutto appunto per l'aspetto delle spese detraibili, perché è fondamentale sapere quello che ci possiamo scontare, giusto? Grazie mille Silvia per essere stata qua con noi questa sera. L'appuntamento con Angoli, come sempre, domani alle 19. e adesso vi lascio a tutte le notizie di TG Prima Pagine e poi a seguire Target. A domani! Grazie mille Silvia per aver guardato il video.